Siamo qui in piazza davanti alla Commissione Europea e al Consiglio per celebrare il raggiungimento di 1.600.000 firme per la ICE, l'iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age, per chiedere di porre fine all'uso delle gabbie nell'allevamento, oggi in Europa. È un momento importante perché celebriamo un anno di lavoro, un anno di attivismo sui territori in tutta Europa, dove appunto migliaia e migliaia di attivisti si sono spesi per raccogliere 1.600.000 firme ed è un record perché per la prima volta nella storia abbiamo superato la soglia minima legale in 21 paesi in Europa. Questo significa che questa è una battaglia condivisa, i cittadini chiedono a gran voce di mettere fine all'uso delle gabbie in allevamento, finalmente smetterla con questa pratica barbara, crudele, inutile e finirla con la sofferenza inflitta a centinaia di milioni di animali quotidianamente in Europa. Lo possiamo fare, non sarà facile, da adesso in avanti inizia un altro lavoro molto importante, molto duro, non sarà facile ma noi lo possiamo fare e quindi lo dobbiamo fare. Noi come Movimento 5 Stelle siamo al fianco di questa battaglia a sostegno del 1.600.000 cittadini che in Europa chiedono un sistema alimentare diverso, più sostenibile, più eco, più giusto e libero da sofferenza.